www.jazzconventiononTV Salve e bentornati su Jazz Convention on TV. In questi giorni sul nostro sito vi accoglie la fotografia di Omar Sosa, l'intervista registrata da Fabio Ciminiera a Foggia, al termine del concerto tenuto dal pianista e vi porta all'interno del suo mondo sonoro, tra i tanti ingredienti che compongono la mescla, sulla quale si librano le linee melodiche disegnate da Sosa. Nello spazio scelti per voi questa settimana vi proponiamo l'esordio di ECM delle linea Duny Quartet, vale a dire Matan Malit. Le recensioni che trovate in home page presentano Extended Circle del Thor Gustavsen Quartet, Il Live in New York City di Gretchen Parlato e Only Light Blue di Rosalba Bentivoglio. L'articolo che vi segnaliamo in questa puntata è il primo numero di European Jazz Club, intervista agli animatori dei principali jazz club europei. Ad aprire la serie è John Kankler del Kunstfabrik Schlott di Berlino. Come sempre ricordiamo ai musicisti e agli operatori del settore che possono pubblicare in modo autonomo e gratuito le notizie relative agli eventi e alle uscite discografiche nelle pagine Agenda e comunicati del sito. Naturalmente aggiornamenti e nuovi articoli li potete trovare ogni giorno su www.jazzconvention.net Jazz Convention e inoltre su tutti i principali social network. Arrivederci, vi aspetto la settimana prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.